Presidente Moretta, il Ministro ha apprezzato molto questo incontro, l'unione dei giovani elementi della nostra città ed ha parlato della città metropolitana come un motivo, una grande occasione. Una grande occasione e l'attenzione, io ho ascoltato con molta attenzione le parole del Ministro la quale ha voluto dare un messaggio del Governo, un messaggio che io già conoscevo ma che lei oggi ha confermato per la partecipazione, per la messa a disposizione di fondi importanti perché senza risorse comunitarie e nazionali certamente non si può realizzare nulla. Ha parlato di tanti progetti, ha parlato della Napoli-Bari, ha parlato della città metropolitana delle risorse che potrà avere a disposizione per mettere in piedi cantieri importanti e far rinascere questa regione ma soprattutto dare tanto lavoro che in questo momento è una grande esigenza del territorio.